Benvenuti su KTS Finance, il vostro partner affidabile nel mondo delle finanze e delle assicurazioni. Mi chiamo Giorgio, ed oggi vi guiderò alla scoperta della nostra azienda. Da oltre un decennio, ci dedichiamo a supportare i nostri clienti. Raggiungere i loro obiettivi finanziari con soluzioni su misura, basate su affidabilità, competenza e innovazione. Il nostro team, formato da esperti qualificati. Lavora ogni giorno per offrire strategie personalizzate e soluzioni innovative. Siamo qui per guidarvi con sicurezza nel mondo finanziario ed assicurativo. In KTS Finance, non siamo solo una compagnia, ma una comunità. Qui, ogni idea ha valore e ogni sfida diventa un'opportunità per crescere insieme. La formazione continua e lo sviluppo professionale sono fondamentali per noi. Investiamo nelle competenze del nostro team per assicurare un servizio all'avanguardia ai nostri clienti. E per i nostri clienti, offriamo non solo servizi finanziari ed assicurativi. Ma una vera partnership, basata sulla fiducia e sulla comprensione delle loro esigenze specifiche. Che si tratti di investimenti, assicurazioni o pianificazione finanziaria. Con KTS Finance avete un alleato al vostro fianco, pronto a supportarvi in ogni fase del vostro percorso. Il nostro obiettivo è chiaro. Aiutarvi a raggiungere il successo finanziario. Fornendovi strumenti e consigli che vi permetteranno di navigare il mercato con sicurezza e confidenza. In KTS Finance, il vostro futuro è nelle mani giuste. Siamo qui per trasformare i vostri obiettivi in realtà, con strategie efficaci e personalizzate. Grazie per averci dedicato il tuo tempo, ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale per non perderti i prossimi video.